Ciao bimbi e ciao bimbi, sono Barbara, sono Alice, sono Dario e benvenuti in un nuovo video slime! Sì, prima di incominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi nessun video! Scriveteci nei commenti le vostre ricette slime così le andremo a provare insieme e ovviamente sarà l'unico modo per essere salutati! Incominciamo! Ti piace questo squishy? Sì! Sono belli? Sì! Allora andiamo a fare uno slime di oggi che ci hanno richiesto due persone! Sì Kiko abbiamo capito, ci sei anche te, vi saluta anche Kiko! Queste due persone sono questi che vi metto ora qui Ehi, ma ho visto lo smalto! Eh, e come fai a sapere? L'hai già detto! Perché oggi gli ingredienti saranno solo olio e smalto! Ah, ma che scherzo lo smalto! È un maschio! Lui non vuole farlo questo! Perciò il signor Arancia ci ha salutati! Allora, questi slime ce ne hanno richiesti! Uno che è Atik Rahaman, però si chiama Adiba! Ciao Adi! Ciao Adiba! E poi l'altro che ce lo chiede è Saeed Owara! Mamma, 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 io ve li lascio scritti qui, perciò vi vedete e vi salutiamo! Ciao Saeed, ciao Adiba! Ciao Saeed e ciao Adiba! E grazie per la vostra ricetta Tutte e due ci avete chiesto di fare smalto e olio Quindi adesso vi saluto nei nostri squishy e cominciamo con la ricetta di oggi Ciao 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 ciao! Questo sarà il nostro contenitore Un pippolo sotto E sei pronta? Lì, perché questa la fai te perché io non lo voglio toccare Questa proprio non ha supporto Tocca a te Metto questo olio dentro questo contenitore Ogni video io lascio un pezzo agito Allora, lo smalto sacrificabile sarà questo blu In onore di Maria Oh no, chi è? Alice! Ah, ti ho sbagliato Auguri, Alice! Grazie È il tuo compleanno, l'ho già detto, a questo video o a quello prima? A quello prima! Ok, allora, anche questo Li rifacciamo gli auguri Così per una settimana riceverai gli auguri del tuo compleanno Grazie Aguri, Alice, per i tuoi undici anni Grazie a tutti Grazie Vai, Alice, incomincio, eh Io non lo tocco, questo non lo voglio toccare Mi rifiuto Quindi devo miscolare con il dito? No, con le mani Intanto, intanto vado a metterlo qua Il mio non viene Ci vorrà solo 20 minuti per farlo scendere tutto Mi sa qui Come buttare via uno smalto? Il mio colore preferito Eh, oh, è il tuo compleanno E te, volevamo fare questo regalo Quando andrai alla tua festa di compleanno dirai Guarda che bel regalo mi hanno fatto Uno slime E stasera la festa di compleanno Eh, però quando loro vedranno questo video Te sarai già maggiorenne No, scherzo Maggiorenne no, ma ci sta che sia fra una settimana Fra cinque giorni domani, boh Io faccio i video nei registrati e poi decido A seconda di come mi sveglio la mattina Quale pubblicare Abbiamo finito di buttarci dentro tutto lo smalto Chiudo E adesso la signorina Alicia Alicia Colò Che sacrificheremo questa palettina Alicia, ascoltami Io so già che farai un pasticcione Te calcola che da come ho capito Se tocchi subito lo smalto ovviamente ti appiccichi Però vatti a buttare l'olio sopra E anzi, guarda Tieni questo Mettiamoci un altro po' d'olio Ora cerca di andare a raggruppare lo smalto tutto dentro l'olio Vai, oh guarda però eh Non chiedevo che fosse così denso eh Lo smalto Falcola che poi devi prenderlo in mano Indi per cui vedi poterlo Più olio ci fai andare Sì E più probabilità hai di poterlo toccare questo slide Poam 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 È stata Alice questa eh Le mie mani sono qua Non sono stata io Va bene, non sono stata io Oggi è colpa tua Sembra la pipì dei cani fuori dalla traversina Non viene perché se no lo fanno veramente Lo fanno già veramente le cani C'hanno un pezzo così Per fare la pipì E la fanno qui Annaggia Un po' la fanno anche vicina alla traversina La fanno vicina Sono stati bravi E poi nemmeno ho prontolato tanto Perché loro la fanno Nella vicina alla traversina Cosa ti dici Ali? Sta venendo eh Sta venendo davvero? Può provare a miscelare anche te? Va bene Provo perché è il tuo compleanno Voglio sentire com'è Mi ha incuriosita Vieni con noi a miscolare Perché non voglio che te ti sborchi Le tue vedi bellissime Ok allora Dopo che l'abbiamo tenuto un po' dentro Alice ora Armati di pazienza Cerca di giocarci Di giocarci Ti tengo questo Com'è? Le mani Guarda mi fammi vedere un po' le mani Allora perdi vai vai Allora cerca di unire tutto Quindi? Eh eh Quindi funziona? Funziona Quindi posso toccarlo senza spercarmi le mani? Cosa dici? Sì Cioè me le ungo e basta? Sì te le ungo Magari quando si va a pranzo Ora Eh non ci faccio buttare la pasta via nonna Eh infatti Oh ma qua Slime Ragazzi ho visto un sacco di video dove è venuto uno schifo a tutti Invece a noi due Piccole fiammiferaie Le duetto dominici Ha ufficialmente fatto lo slime con lo smalto Signori Lo smalto è diventato slime Ero molto scettima Ma poi comunque lo smalto è già slime perché è molto solido Sì però se lo tocchi e non lo puoi mica toccare Sì se lo tocchi si si appoggica tutta le mani Guardate Guardate Davvero funziona Sono scioccata E lo so abbiamo Si sta un po' oliando tutto Sto oliando tutto però sono scioccata Io mi lavo le mani ufficialmente E lascio il divertimento all'alice E' troppo bello Bello eh Ma è il mio colore preferito Grazie per il regalo zia Prego amore della zia dolce Ufficialmente abbiamo fatto lo slime Oleoso Con lo smalto Io non ci credo ancora Quindi allora Like per forza Anche se non mi volete metto un dislike Perché vi sono tematica Per questo like uguale Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like Vi mandiamo un bacione grandissimo E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 This is you She Musica Musica